Dal libro dell'Esodo In quei giorni il Signore disse a Mosè Bah, scendi, perché il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto, si è pervertito. Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo loro indicato. Si sono fatti un vitello di metallo fuso, poi gli si sono prostrati dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto Ecco il tuo Dio, Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Il Signore disse inoltre a Mosè Ho osservato questo popolo. Ecco, è un popolo dalla dura cervice. Ora lascia che la mia idea si accenda contro di loro. E li divori. Di te, invece, farò una grande nazione. Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse Perché, Signore, si accenderà la tua ira contro il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto con grande forza e con mano potente? Perché, dovranno dire gli egiziani, con malizia li ha fatti uscire, per farli perire tra le montagne e farli sparire dalla terra? Desisti dall'ardore della tua ira e abbandona il proposito di fare del male al tuo popolo. Ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele, Tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso e hai detto Renderò la vostra posterità numerosa come le stelle del cielo e tutta questa terra, di cui ho parlato, la darò ai tuoi descendenti e la possederanno per sempre. Il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo. Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo. Si fabbricarono un vitello sull'Oreb, si prostrarono a una statua di metallo, scambiarono la loro gloria con la figura di un toro che mangia erba. Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo. Dimenticarono Dio che li aveva salvati, che aveva operato in Egitto cose grandi, meraviglie nella terra di Cam, cose terribili presso il Mar Rosso. Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo. Ed egli li avrebbe sterminati, se Mosè, il suo eletto, non si fosse posto sulla breccia davanti a lui per impedire alla sua collera di distruggerli. Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo. Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo, Gesù disse ai giudei, se fossi io a testimoniare di me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera. C'è un altro che dà testimonianza di me e so che la testimonianza che egli dà di me è vera. Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo, ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e risplende e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni. Le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E anche il Padre che mi ha mandato ha dato testimonianza di me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce né avete mai visto il suo volto e la sua parola non rimane in voi. Infatti non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le scritture pensando di avere in esse la vita eterna. Sono proprio esse che danno testimonianza di me. Ma voi non volete venire a me per avere vita? Io non ricevo gloria dagli uomini ma vi conosco. Non avete in voi l'amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi accogliete. Se un altro venisse nel proprio nome lo accogliereste. E come potete credere? Voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio. Non crediate che sarò io ad accusarvi davanti al Padre. Vi è già chi vi accusa. Mosè nel quale riponete la vostra speranza. Se infatti credeste a Mosè credereste anche a me perché egli ha scritto di me. Ma se non credete i suoi scritti come potrete credere alle mie parole? non credere. Non credere. Grazie a tutti